Qual è la situazione che si vive al Committo Nazionale dell'Aquila? La situazione attuale è che tuttora abbiamo pochi iscritti, questo è dovuto alla mancanza della ricostruzione del vecchio edificio storico perché come sappiamo tutti quando eravamo al centro storico il Committo Nazionale accoglieva molti ragazzi che potevano essere sia committori che semi-committori e semi-committrici. Quest'istituzione è una delle più antiche della città, la cui fondazione risale al 1800. Il servizio che svolge il Committo è un servizio rivolto a tutte le famiglie, quindi assicuriamo un servizio alle famiglie aquilane come semi-committori e semi-committrici. Cosa significa? Spieghiamo meglio semi-committori. Allora semi-committori significa che i ragazzi dopo che hanno frequentato la scuola si recano al Committo, qui vengono seguite nelle attività di studio, mangiano dove c'è il cuoco che prepara il pranzo al momento e poi fanno i compiti. Oppure si può anche dormire? Si può anche dormire, il servizio è rivolto ai committori, i committori generalmente sono ragazzi che provengono da fuori provincia o da fuori regione, che per motivi sportivi o per altri motivi decidono di stare qui all'Aquila e qui hanno vitto e alloggio, quindi dormono e la mattina si recano a scuola, dopo scuola tornano in Committo. Quanti ospiti avete attualmente? Allora attualmente abbiamo 20 committori. Da dove vengono? Vengono dalla Campania e dalle province aquilane. Perché sono qui? Sono qui sia per motivi sportivi e sia per motivi legati anche al liceo musicale, perché è l'unico che abbiamo in regione. E quant'è il costo per una famiglia? Allora il costo per una famiglia per i committori è intorno a 2000 euro l'anno, quindi se facciamo un conto lo riportiamo a livello mensile sono 200 euro al mese, mentre per quanto riguarda i semi committori pagano 100 euro al mese. Ma ci sono dei limiti di età, ecco chi può accedere a questo servizio? Allora il servizio di semi committori è rivolto ai bambini sia delle medie sia ai ragazzi delle scuole superiori. Per quanto riguarda il committori è la stessa cosa, sia ai ragazzi delle medie che ai ragazzi che frequentano la scuola superiore. Quanto paga il fatto di essere qui in periferia? Certo è una struttura sicura, un prefabbricato possismico detto MUSP, ma sicuramente non è la sede prestigiosa del centro storico. Essendo dislocati penso che abbiamo avuto un decremento proprio per questo motivo, perché quando eravamo al centro, proprio al centro della città, questo decremento non c'era. Qui al committore lavorano circa 25 persone, queste 25 persone sono 5 educatori, poi abbiamo 3 cuochi e tutti i collaboratori scolastici che è formato da cuochi, guardarobbieri e personale amministrativo. Avete sentito i sindacati, parte di questi posti potrebbero essere a rischio a quanto si legge? I sindacati si stanno muovendo, stanno facendo qualcosa. L'unica soluzione è quella di incrementare nuovamente l'escrizione? Esatto, l'unica soluzione è quella di incrementare l'escrizione e dobbiamo dire che se questa struttura, se questa istituzione esiste ancora, dobbiamo ringraziare i committori, il personale docente e la dirigente scolastica e tutto il personale che è composto da cuochi, infermieri, guardarobbieri. Potrebbe stringere accordi con le società sportive, in quest'ultimo periodo le società sportive all'Aquila sono venute a mancare perché prima noi avevamo ragazzi dell'Aquila Calcio, quando l'Aquila Calcio si trovava in una serie superiore e quindi ospitavamo molti ragazzi. La stessa cosa era per il rugby, essendo venute a mancare queste società sportive sono venuti anche a diminuire i committori.